Sicuramente una serata positiva perché la squadra ha approcciato bene la gara, l'ha interpretato bene con intensità, con aggressività e anche con la giusta qualità. Quindi una serata positiva, ci tenevamo a passare questo turno, ci tenevamo soprattutto a dare continuità alla buona prestazione di Cagliari, ci siamo riusciti. Tutti i giocatori che sono stati chiamati in causa si sono fatti trovare pronti, questo è un segnale importante. Le posizioni in campo non sono mai fisse, non dipendono mai dal sistema di gioco, ma dipendono dagli spazi da occupare. Più spazi occupiamo, qualcosa comunque gli avversari ti devono concedere perché non possono nemmeno noi quando siamo senza palla possiamo coprire bene tutto il campo. O concediamo la profondità, o concediamo l'ampiezza, o concediamo le giocate tra le linee. Noi dobbiamo essere bravi a occupare bene tutte queste zone del campo e bravi poi a fare la scelta giusta nel momento giusto. Stasera secondo me l'abbiamo fatto più volte e abbiamo avuto tante tantissime occasioni della gol e questa è la cosa più importante.